Salve! Benvenuti sul mio canale YouTube! Guardate dove siamo! Noi siamo alternative, va bene? È inverno, è nuvoloso, siamo al mare, ok? E ho deciso di fare qualcosina con la mia amica Enza, approfittiamo di questa energia positiva del mare, della sabbia, di tutto ragazzi! Siamo andate via da casa, siamo uscite e ora facciamo qualcosina insieme, ok? Bene, perfetto! Vai! Ok! Le gambe avete come larghezza delle spalle, le braccia lungo il busto, giù la testa, a destra, dietro, sinistra e in basso! Vai a sinistra, dietro, a destra e in basso! Andiamo giù, fino al fondo, tocciamo le scarpe, uno! Saliamo, saliamo senza la pancia, ok? Io e Enza ci oggi alleniamo e voi guardate, giù, due! Fuori l'aria! Saliamo e sfidiamo! Altre due volte! Andiamo giù, forza! E sfidiamo l'aria! Saliamo senza la pancia, molto rilassati! Ultima! Giù, forza! Espiriamo l'aria! Vai! Saliamo completamente rilassati! Le braccia apriamo, inspirando su! Abbassiamo, espirando! Tocchiamo le mani su? Inspiriamo, tocchiamo! Ed espiriamo! Altre due, vai! Inspiriamo, tocchiamo! Ed espiriamo! Andiamo, ultima, ultima! Inspiriamo! Ed tocchiamo! Pieghiamo le gambe, le mani sopra le ginocchia! Chiudiamo la schiena! Solleghiamo la testa! Guardiamo il cielo! E andiamo su! Di nuovo! Pieghiamo le gambe! Chiudiamo l'aria fuori! Solleghiamo, stendiamo e andiamo su! Altre due volte! Pieghiamo, buttiamo fuori l'aria, chiudiamo! Solleghiamo! Andiamo su! E ultima! Pieghiamo via l'aria fuori, 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 fuori! Solleghiamo e andiamo su! Il braccio destro, vai a sinistra! Vai verso la gamba a sinistra! Saliamo a sinistra! Solleghiamo le braccia! Andiamo su! Apriamo, lasciamo! Vai braccio sinistra! Lascia! Vai a prendere la gamba a testa! Saliamo su le braccia! Vai! E apriamo! Vai di nuovo! Destra! Dai, 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 dai! La gamba chiudi, chiudi, chiudi! Saliamo su le braccia! Altissimi! E apriamo! Vai ultima! Sinistra! Vai, spingi! Chiuditi e spina! Saliamo su le braccia! E apriamo! Apriamo! Pieghiamo le gambe! Avanti! Il bacino! Uno! Dietro! Due! Dietro! Tre! Dietro! Quattro! Stop! Andiamo giù! Prendiamo le gambe in basso! Chiudiamoci! Espiniamo l'acqua! Stendiamo le gambe! Stendiamo il curvamento! Piano, 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 completamente dritto! Ok! Andiamo avanti! Prendiamoci le mani! Stiamo! Le gambe aperte un po' di più delle spalle! E andiamo dietro! Sederà papela! Tiriamo! Saliamo! Inspira! Perfetto! Due! Stringi glutei, bacina avanti! Tre! Pezzo dietro! Inspira! Quattro! Giriamo la testa a destra! Vai! Cinque! Benissimo! Sei! Vai, vai, vai! Ok! Sette! Ultima, ultima! Otto! Stop! Giriamo! Teniamo forte la mano! Chiudiamo le gambe insieme! Andiamo a toccarci! Stendiamo le braccia! Ok! Torniamo! Vai di nuovo! Giù il braccio! Vai! Tira, tira, tira! Spostati dietro! Tira, tira, tira! Ok! Torniamo! Bene! Vai! Per inizio è tutto nuovo! Vai! Tirati forte! Ok! Perfetto! Vai! Ultima! Tira forte! Vai! Dai! E' così! Torna! Facciamo il cambio! Vai! Ok! Stendiamo bene! Sposteremo proprio il bacino! Chiudiamo le gambe insieme! E vai! Sposta il bacino! E vogliamo toccarci! Brava! Vai di nuovo! L'aria fuori! E tira! Torna! Schiacciamo bene le gambe! E tira! Torna! Ultima! Ultima! E tira! Torna! Stop! Giriamo avanti! Ok! Allora! Alziamo! La gamba esterna fuori! Vai! Pieghiamola! Tocchiamo il ginocchio! Vieni! Ok! Bene! Dritti! Il braccio giù! Giriamo la testa! E vai! Alziamo il braccio! Guarda! Uno! Guarda! Vai assi! Guarda! 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 Gira! Aspetta! Giù! Aspetta! Giù! Bene! Alziamo! Ok! Vai! Su! Gira la testa! Vai! Uno! Abbassa! Due! Abbassa! Tre! Ok! Quattro! Benissimo! Cinque! Tieni la pancia! Sei! Bene! Dai! Sette! Ultima! Otto! Vai! È tutto inventato! Andiamo! Andiamo! Dai! Ogni esercizio va bene! Creiamo! Ok! Vai! Prepariamo la gamba! Addominali contratti! Giriamo la testa! Vai! Uno! Ok! Due! Vai! Tre! La pancia dentro! Quattro! Bene! Cinque! Vai! Sei! Ok! Sette! Ultima! Otto! Stop! Perfetto! Giriamo! Oenza! Una schiena contro l'altra! Dammi le mani! Andiamo! Ci mettiamo a sedere! Piedi più avanti! Vai più avanti! Sedute! Tocca la testa! Otto! Sette! Sei! Cinque! Quattro! Tre! Due! Uno! Perfetto! Bravo! Andiamo! Le mani sopra le spalle! Ok! La schiena dritta! Stop! Pieghiamo le gambe! Uno! Svendiamo gli spini! Due! La schiena dritta! Tre! Inspira! Quattro! Non andare dietro! Cerca di scendere! Cinque! Vai! Sei! La schiena dritta! Scendi meno! Sette! Meglio! Otto! Stop! Sciù! Prendiamo le gambe! Chiudiamoci! Eschiamo l'aria! Saliamo curvando! Completamente dritti, dritti, dritti! Ok! Le braccia aperte! Ora! Guarda! Piede! Tocca la mano! Fum! E facciamo il caldo! Ok! Pronta! Vai! Vai! Andiamo! Uno! Cambia! Due! Alza di più! Tre! Ok! Quattro! Cinque! Sei! Apri le gambe! Sette! Otto! Nove! Dieci! Stop! Bene! Gira! Tocca! Ok! La testa tocca! Bene! Sulle braccia! Su! E torniamo! Tocca giù! Forse tocchiamo su! Per me è più difficile! Uno! E torna! Avendo la goba è più difficile! Su! E torna! Bene! Quattro! Percepisci la schiena e la testa! Torna! Vai! Cinque! E torna! Leviamo la pancia che io ce l'ho! Sei! Enza è perfetta ragazzi! E via! Sette! Le braccia avanti! Non dovevano aprirti! E ultima! Avanti! Otto! Prendiamoci le mani! Dove sei? Ok! Ce l'ho! Ce l'ho! Brava! Lei mi tira! Benissimo! Andiamo! Io la tiro un po'! E andiamo dall'altra parte! Due! E vai! Uno! Vai! Due! Ok! Vai! Uno! Dai! Due! Ultima! Uno! Vai! Due! Stop! Apriamo le braccia! E abbassiamo! Giriamo! E! Ah! La gamba! Questa! Scusa! Va dietro! Questa avanti! Andiamo! No no! Questa avanti! Vieni più vicina! Toccano le ginocchia! Abbiamo fatto! Giriamo! Benissimo! Brava! Ok! E andiamo ora! Tocchiamo le mani! Schiaccia forte! E apri fuori! Schiaccia forte! Stendi il braccio qui! Stendi! Brava! Tre! Brava! Inspira! Quattro! Benissimo! Cinque! Schiaccia! Anche la gamba! Sei! Vai! Sette! Ultima! 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 Otto! Perfetta! Cambiamo dall'altra parte! Prepariamo la posizione! Ok! Questa posizione! Ok! Per le persone più allenate! Noi essendo più allenate! Possiamo fare questo angolo! Ve l'abbiamo tutta sotto controllo! Ok! Giù la mano! Pronta! Vai! Schiaccio! Avanti! Schiaccio! Inspira! Tre! Benissimo! Vai! Quattro! Bene! Cinque! Vai! Sei! Ok! Sette! Ultima! Otto! Vai! Giriamo! Una mano intrecciamo! Più dietro! Dritta la schiena! Il sedere! Pieghiamo le braccia! Una verso l'altra! Uno! Perfetto! Due! Ok! Tre! Benissimo! Quattro! Lei lavora di più eh! Cinque! Vai! Sei! Altre due! Sette! Ultima! Otto! Stop! Prima cominciamo con me! Allora! Ce la fai a prendermi la gamba di sotto! Quella esterna! Stop! Più su possibile! Usa! Usa! Vai su! 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 Benissimo! Apro le braccia! E ferma! Perfetto! Benissimo! Stop! Faccio il cambio! Almeno faccio tutte e due! Accino i pari! Poi decidi te! E vai su! Più su che puoi! Pianiamo la faccia dentro! Brava! Bene! Equilibrio lavora! Perfetto! Ora prova Enza! Prova! Bravo! C'è tanti! Dai! Ok! Apri le braccia! Benissimo! Vai! Ok! Benissimo! Bravissima! Ok! Dall'altra parte! Pianco! Oh! Vai! Ok! Con calma! Tanto mi decide lei! Respiriamo! Brava! Bene! Ok! E torniamo! Ora! Movimento è profilo! Pianco! Uno! Tocca! Uno! Vai! Due! Muovi il bacino! Tre! Ok! Guarda! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Nove! Dieci! Cambia! Vai! Ora sappiamo! Le braccia! Fai! Uno! Tocca! Due! Tre! Ok! Quattro! Cinque! Tocca! Sei! Sette! Otto! Nove! Dieci! Ok! Giriamo! Allarghiamo molto le gambe! Ora! Si va giù! Decidiamo il spazio! Sì sì! Decidiamo! Prendimi le mani! Bene! Tira! Uno! Tiro! Due! Tira! Uno! Tira! Due! Tira! Uno! Tira! Due! Tira! Uno! Tira! Due! E tira! Uno! Tira! Due! Ultima! Tira! Uno! Benissimo! Tira! Due! Lasciamo e andiamo su! Ok! Il esercizio? Molto difficile! Ultimo! Quello più impegnativo! Andiamo un po' più vicini! Così! Così! Brava! Allora! Le gambe aperte parallele! Allora! Batto! 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 Batto fianco! Bianco! Ecco! Via! Uno! Uno! Due! Uh! T fui! Vai! Uno! Due! T fui! Vai! Do! Tre! Ok! Vai! Due! Il! Vai! Pam! Tav! Tav! Un! Due! Tre! Qua! Un, due, tre, qua Un, due, tre, qua Un, due, tre, qua Ok, ci siamo divertite È stato? Piacere Bene ragazzi, un bacione grande E alla prossima, ciao